Il Dipartimento di Economia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara Chieti ha ospitato questa mattina la segretaria nazionale dell'ospici GL Tania Scacchetti ed il saggista Walter Cerfeda per parlare del futuro e dell'Europa. Il discorso è stato poi focalizzato sui pensionati e sulle problematiche di una popolazione sempre più anziana nel nostro paese. Bisogna parlare e avere consapevolezza che le condizioni dei pensionati e delle pensionate anche del nostro paese dipendono tanto dalle scelte che si faranno in Europa e dai cambiamenti che interessano il mondo. L'Europa non si comporta benissimo con i pensionati e le pensionate nel senso che è un continente che sta invecchiando molto, che deve riflettere sui cambiamenti demografici, che deve tornare a essere l'Europa dei popoli, dello Stato sociale, investire sulla sanità, sull'invecchiamento consapevole e positivo delle persone. Significa spostare un baricentro dall'Europa dell'austerità all'Europa invece dei diritti. Un po' le scelte che sono state fatte nella pandemia, che è stato invece un grande rilancio dell'Europa dei popoli e dell'Europa sociale. E quindi crediamo che parlare oggi d'Europa alla vigilia di un voto significativo significhi anche provare a orientare le nostre persone rispetto all'importanza di schierarsi verso quegli schieramenti che chiedono quell'Europa sociale e non un ritorno ai nazionalismi. Ecco, lei parlava di quello che è il vero problema, l'invecchiamento della popolazione, che in Italia va più velocemente rispetto ad altri paesi. Sì, noi siamo un paese che sta invecchiando tanto. Fra meno di 25-30 anni avremo 4 milioni di lavoratori in meno e quasi 6 milioni di pensionati in più. Questo significa che dobbiamo occuparci in fretta del sistema di protezioni sociali, che dobbiamo ridefinire anche un patto economico e fiscale rispetto alla tenuta del sistema delle pensioni. Significa che dobbiamo investire nella sanità pubblica, perché abbiamo visto la differenza che fa la sanità pubblica sulla salute. Questo è un messaggio per l'Europa, ma è un messaggio anche per il nostro paese. Quindi credo si debba parlare molto meno di candidature, si debba parlare molto meno di interessi materiali, e si debba parlare molto di più della condizione materiale delle persone, che è fatta della tutela del loro reddito e della tutela della loro salute, della loro sanità e del loro benessere.